buonasera buonasera subito una segnalazione su one football al podcast generazione fenomeni importantissima puntata dedicata a dusan vlavic one football generazione fenomeni podcast dusan vlavic vi lascio il link in descrizione non sono capace di dirlo il link in descrizione non sono un youtube professionista dai su sono prestato al tubo con diritto di riscatto però va bene no dai sto cercando di metterlo un po sul ridere ma penso che per esempio il poveretto caio george non abbia molta voglia di ridere io non so cosa stia succedendo a questo ragazzo anche a lui un'annata iniziata male e finita peggio perché ormai è finita con questa rottura del tenine rotuleo del ginocchio ovviamente rotuleo del ginocchio sinistro se non vado errato e con l'under 23 quindi nel momento in cui poteva dare un po di libero sfogo alla propria voglia di giocare non dimentichiamo che ha fatto 7 8 presenze ma tutte forse mettendole assieme non si fanno 20 minuti di presenza arriva qua con la voglia di giocare con il suo idolo di sempre cristiano ronaldo dopo due giorni ronaldo va via e gioca non gioca lo mette dentro il minuto di recupero solo minuti di recupero potrebbe giocare in coppa italia non lo mette non è nella lista champions e adesso si fa male a tenere lo diciamo che se esiste una legge di compensazione e mi auguro per lui che esista l'anno prossimo cario giordi diventa uno dei protagonisti della stagione della juventus tra l'altro doveva andare a giocare al salerno ha preferito di no la juve ha preferito tenerlo insomma tutta una serie di sliding doors negative che lo hanno accompagnato quest'anno poi vi si dirà che fa tutto parte del percorso di crescita però voglio spiegare adesso che il percorso di crescita prevede anche un intervento di ripristino del tenino e rotulo e quindi una stagione finita ufficialmente a metà poco più della metà di febbraio la sua prima stagione in italia però tutto fa esperienza naturalmente un grande bocca al lupo a caio giordi nel frattempo dove perde un altro pezzo alexandro questo affaticamento al soleo soleo bastardo boot muscolo bastardo vi ho già spiegato il perché quindi starà fuori probabilmente potrà rientrare per la partita contro il viglia reali il ritorno del 16 di marzo detto questo quando c'è di mezzo il soleo non sai mai come va cioè sai quando ti fai male ma non sai quando guarisci quindi qui si fanno delle stime un po' approssimative in ogni caso la lesione di basso grado e quindi questo dovrebbe comportare un rientro quantomeno in questi nei tempi che vi ho indicato poi ragazzi capisco che la questione di bala possa essere stufosa no come dicevano a zelig e quindi che possa stancare questa questione qua ma non c'è più tanto da aspettare qualcuno di voi metto la società tirerà le somme a fine campionato no 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 qui devi andarci adesso fuori ce ne devi andare fuori adesso ragazzi ma è così è un ultimo atto questo o dentro o fuori non ci si scappa questo ultimo atto questa è l'ultima di sfida tra arriva bene e antun e quindi di conseguenza di valantun che è atteso a fine settimana a torino e dopo il consiglio dell'amministrazione si incontrerà e lì sei o dentro o fuori e non mi aspetto a questo punto dei incontro interlocutore tol massimo uno ne posso ancora ammettere uno ma io non devo ammettere niente dipendesse da me il problema si sarebbe già risolto da tanto tempo in senso di rinnovo però ragazzi basta sì stufa voi ok e non dico che stufa anche me perché no perché giornalisticamente comunque è una cosa bella avvincente interessante da seguire da approfondire eccetera però mi rendo anche conto che deve finire o in un senso o nell'altro quindi o si continua o di vala deve trovarsi un'altra squadra a meno che non abbia già sotto delle squadre che effettivamente hanno formulato delle proposte perché quando si parlava di liverpool e di manchester city si è parlato di così sondaggi pur parler ma una proposta concreta al giocatore non alla juventus ovviamente ma il giocatore non è arrivata a quanto risulta quindi in questo momento è chiaro che per una sorta di gentleman agreement magari altre società stanno aspettando di vedere cosa succede con la juventus dopodiché valutano se intervenire perché la situazione di vala è tutta da valutare ragazzi è tutta da valutare è tutta da valutare solo che la juve ha una scorta di esperienza specialmente di questa ultima stagione con cinque stop all'estero magari è una situazione che valutano meno che hanno approfondito di meno certamente che non hanno forse nemmeno approfondito fino adesso ma poi sarà oggetto di valutazione qualora le strade tra di bala e di questi dovessero separare sarebbe brutto però sarebbe brutto perché sarebbe una sorta di non dico il fallimento di un progetto però questo giocatore che non è mai completamente sbocciato non lo so sarebbe una storia molto strana cioè rischierebbe di bala di di essere ricordato per una sorta di incompiuto non a metà strada molto più avanti della metà strada ma una sorta di incompiuto cioè non poteva essere ma non è stato poteva essere un fuoriclasse ma non lo è diventato non lo so io 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 penso che lui farebbe bene a rimanere lì conosce l'ambiente probabilmente insomma questo questo avventata di novità con la vice eccetera può solo fargli del bene ecco però è chiaro che deve accettare deve accettare che la sua condizione fisica sia sottoposta ogni tot a revisione a revisione c'era una cosa che era da un po di giorni da due giorni no da quando sono usciti i riferimenti per illecito per il discorso del plus valente c'è vien da ridere per un semplice motivo che fino a quando pur sapendo tutti che non c'era dentro solo la juventus si parlava solo della juventus di rischio deferimento ovviamente si paventava sì la possibilità di un illecito amministrativo però attenzione c'è il grosso rischio di una penalizzazione ci può essere una penalizzazione insomma delle conseguenze anche sulla uefa eccetera 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 nel momento che sono usciti i deferimenti e che non riguardano solamente la juventus lo sapete sono 11 società se non vado errato allora sì ma il rischio al massimo è una sanzione amministrativa remota l'ipotesi di una penalizzazione cioè quando non c'è più solo la juventus nel momento in cui c'è l'atto ufficiale del deferimento che non riguarda più solo la juventus allora improvvisamente l'illecito amministrativo la sanzione pecuniaria è la l'ipotesi prevalente nel caso di condannate che poi chiaramente le società adesso hanno 15 giorni di tempo per far valere le loro ragioni e dimostrare che non si è esercitata nessuna plusvalenza fittizia così era una curiosità ma ci stupiamo ci stupiamo proviamo a stupirci se volete ci provo eh no davvero non l'avrei mai pensato ho provato a stupirmi iscrivetevi al canale a domani ciao 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 ciao